Questo bacio a sorpresa in diretta tv dal conduttore Jean-Michel Maire sul tanto vediamo lo scalzo ah mamma mia no questa voi pazzesco zoppica un po è stato investito dalla cameraman queste sono riprese non della regia internazionale ma della adesso invece è il ma la questione è come democraciasi rispondono i scandali e 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 I mean shifting sands in the region, do you think relations with the north may change? I would be surprised if they do. Pardon me. My apologies. What is this going to be for the region? My apologies. Sorry. North Korea, South Korea's policy choices on North Korea have been severely limited. Oh. 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 Of... Chile! 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 ¡Ole! Ole! Ole! Los Dodgers enfrentan a los Cardenales de San Luis, esto el sábado a las 8 y media. Y obviamente el mejor combo de NFL lo tenemos también aquí los domingos. Io sono Ximena Sánchez, la chica del clima per lo mejor di Foxport. Qu'è buona la c**a, la acogida que le dieron en Mexica. Lizz Taylor is being played by Stockard Channing, and Marlon Brando is being played by Cedric the Entertainer. We're coming right back. Are you going to have a vest that's open? I'm sorry. We were talking to Sam about Dancing for the Stars, and I guess we're supposed to be talking about the, hold yourself together, Special Olympics athletes from Aveline to San Angelo who are here in town. You want me to read yours? Okay. Letter F. So F, it can be first name, last name. Fiona thinks she's the person with the letter F in your life. Of course, I can't believe I forgot about my dear Fiona. You are the F in my life, Fiona. I can't. I can't. I can't. I can't. Oh, Jesus! Oh! Oh! O que é isso? Oh! Oh! Misericórdia! A mulher figurinha! Oh! Eu vou explicar pra você que está em casa. Nos assistindo. Nós temos aqui. Nono Ronaldo com a Dijina e Robina que sumo um rileiro. Na- Sì, sì, sì. Hi everybody. I'm glad you could drop in, Dan. That's okay. It's the least I could do, right? You know, everybody is disappointed that the work week is over or the weekend's over. But I'll tell you, you know what, the start of your work week is actually going to be off. A sticky situation at an airport in Tennessee after baggage was sprayed with raw sewage. Sprayed? Corn? How'd they get on my bag? Okay, too far. Oh my gosh. Here's the deal. Here's the deal. Just wait, wait, wait. This is just it. We're on TV. We're on TV. There are people watching. We're not in a private area. Just FYI. Oh my gosh. Last week, Twitter said guidelines were being updated due to confusion. The company says any users who tweets content... Excuse me. Okay, I don't know, I'm so just kidding. Alright, pull it together now. It's 5.37. Good Thursday morning to you. I feel really out of the loop right now. I have tears coming out of my head. Good morning to you. Good morning to you. Good morning to you. I have a problem with the rest of my head. I have a problem with the rest of my head. I'll go to the studio. Camera on the internet, I'm going to go. Non ho così, non ho fatto l'ho detto. Poi ci sono la storia, non ho fatto l'ho detto. Hocici io da credo? Abbiamo ciò che ci sono interessanti, e ho dovuto fare l'ho detto. Poi, ho fatto l'ho detto che ci sono la storia, dice che ci sono proprio la storia, è stato un programma e stanno realizzando. Da d'ostanem! Mi ti è ancora prima di fare. Hoci ti da creare? Sì, io hoci. Ma io ti da creare prima di Wawrinki e Cole Schreiber e da mettere un'evità da Wawrinki per farvi un po' di Stoli. Kilometri all'heure a certi androi, la mia collega, che ha fatto qualcosa in studio. E che ha fatto il tomber prima che ci siamo arrivati in Londres. C'è per questo il rire anche. Un po' di soleil per domani, comunque, in debito di giorni. Ma voi lo vedete, per la regione di Sherbrooke, c'è s'ennuaggio graduellement, in aprile-midi. Per la Montaiglie-Centro-Di-Québec, possibilità diverse, ma soprattutto in fine giorni. E ci resta comunque confortabile. Jusqu'à 20 degrini. Per Grand Bain-Bain-Brain-Missisquo, è exactamente il mismo periodo. C'è molto variabile. C'è un po' di giorni. Ok, un maximum. Ok, regione di granita, la même chose. C'è sempre. Heureusement, il n'y a pas grand chose a signaler per la meteo. Il rire l'unico. Il soleil. Je vous laisse regarder le resto di tableau. Moi, j'aimerais vous aider, Valérie. Non, ça va. De vous entendre rire, ça me ferait. Il n'y a pas de problème. Alors, vous le voyez, des maximums nettement au-dessus des valeurs de saison. M. Yomar. F. Deveille. F? F van Frans. Vreille. Frederic. Perecule. Il n'y a pas d'en minic définière. Il n'y a pas leil C'est un peu. Il n'a pas leil C'est un peu. No, 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 no. No, 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 no. But check out this peekaboo cat. She is crying, like literally. è come l'eclipso, non stare direttamente a la cat I am literally crying Non stare direttamente a la cat This is why I get nothing done Take my eclipse glasses, you can't see it I'm gonna go ahead and read this, you wanna read this? I'm gonna go ahead and read this Some people crumble under funny cat videos Jack in a box Pop goes the weasel Ready, but wait for it, here he comes We could just do this forever, it's so cute Everybody look, kitty, kitty, kitty We're not doing any news today, we're gonna do it Two hours, try and have a bad day after watching that You can't One more time One more time All right Every time this cat is playing peekaboo Do you see it? Can you read it? I don't wanna read it, I wanna sit here and listen to you laugh It's much more entertaining We've shown this like three times I don't know what you think I'm saying I just don't know how to do this How to do it? Cool What the hell? That is really rest You just you